Sono stati presentati alla cinquantesima edizione del Forum di Cernobie i risultati del Global Attractiveness Index 2024, sviluppato da The European House Ambrosetti, che prende in considerazione gli indicatori di apertura, innovazione, dotazione ed efficienza dei diversi paesi e vede l'Italia posizionarsi al diciassettesimo posto su 146, guadagnando una posizione rispetto allo scorso anno. Amazon ha accolto con favore le indicazioni emerse dalla ricerca, sulle quali sta già lavorando. L'azienda sta infatti investendo per rendere più sostenibili le proprie attività, elettrificando la rete dei trasporti e dei servizi di consegna e spostando volumi sul trasporto marittimo e ferroviario. Sta inoltre collaborando con istituzioni e partner attraverso un dialogo costruttivo tra pubblico e privato e offrendo strumenti digitali innovativi a supporto delle piccole e medie imprese italiane. Amazon continua ad investire fortemente in Italia. Dal nostro arrivo nel nostro paese nel 2011 abbiamo investito quasi 17 miliardi di euro in infrastrutture logistiche e in tecnologia e abbiamo creato 18.000 posti di lavoro che diventeranno 19.000 entro la fine del 2024 dando un grandissimo impulso all'economia del paese e soprattutto alle piccole e medie imprese con le quali noi lavoriamo. Ne abbiamo circa 21.000 che ogni giorno vendono attraverso il sito di Amazon. Infatti qui a Cernobbio abbiamo presentato dei nuovi dati che dimostrano l'impulso che Amazon dà alle PMI che nel 2023 hanno raggiunto 1.2 miliardi di export in crescita del 25% rispetto all'anno precedente, quindi un dato molto positivo, molto significativo e una delle cose che più ci fanno piacere è il fatto che le imprese che hanno cominciato ad esportare sono cresciute in maniera significativa, sono passate dal 50% al 65% l'anno scorso e questo è frutto dei nostri investimenti e anche frutto dei nostri sforzi in informazione dei nostri imprenditori e imprenditrici, quindi dati molto positivi ovviamente che ci spingono a continuare a lavorare lungo questa stessa direttrice. Il Global Attractiveness Index 2024 racconta di un'Italia in movimento impegnata a migliorare il contesto normativo e infrastrutturale con il contributo strategico delle multinazionali e un focus su innovazione e sostenibilità il Paese ha l'opportunità di continuare a crescere rafforzando la sua posizione tra le economie più competitive.